Una comunità intrepidante attesa che si concluda nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Davide Businaro, l'uomo di 50 anni, uscito di casa domenica 4 agosto per un giro in sella alla sua moto, di cui si sono perse le tracce. Secondo alcune testimonianze, il casarsese sarebbe stato immortalato dalle telecamere del controllo e rilevamento stradale a San Daniele del Friuli, Tolmezzo e Ovaro, mentre la moto e il casco sono stati ritrovati nel piazzale di Avaris, frazione di Socchieve. A esprimere tutta la vicinanza e solidarietà alla famiglia, il sindaco di Casarsa, Claudio Colussi, che ha il microfono di TV12. Naturalmente c'è un'apprensione fra tutta la comunità, perché è una cosa che non era mai accaduta, oppure era accaduta anni fa, a me a memoria, da molto tempo che c'era la scomparsa di un nostro concittadino. Però purtroppo, come penso sappiamo tutti, ancora non abbiamo notizie del suo ritrovamento. Sappiamo appunto che hanno ritrovato il suo mezzo, il suo casco nelle nostre montagne, qui in Carnia, però notizie diciamo fresche io non ne ho proprio. Certo il nostro pensiero va anche alla famiglia, a tutti gli amici che lo conoscono e il nostro auguro, la nostra speranza che venga ritrovato e che al più presto e che ritorni qui a Casarsa.